Tutti noi dormiamo, chi più chi meno, ormai è una routine, ma ci sono dettagli che forse non ci accorgiamo o che dimentichiamo perché insignificanti. Avete presente quando state cercando di dormire e sentite quella sensazione di cadere nel vuoto? Alla fine tutto passa e ci si accorge che si sta ancora nel proprio letto. Si dice però che una volta su un milione si cada veramente nel vuoto da qualche altra parte in un'altra dimensione e tutto questo non verrà neanche realizzato dal vostro cervello.